Ecco il centauro che ti approccia, piega, piega! Ma dove andate? Ma dove andate? Piscina? Piscina gli assi? Ma tu c'hai una indicazione a chi l'assi? Non ce la faccio! Nooo, niente, non vai assi per me! Abbiamo dormito bene? Un coma! Com'era la nave? Ballava! 300 km di off-road oggi! Siamo pronti, siamo pronti! Tra poco usciamo! Siamo pronti, siamo pronti! Siamo pronti, siamo pronti! Siamo pronti, siamo pronti! Questo è il fatto, maionette e contino! Alle? 10 di mattina neanche? Alle 11, gatto! Ah, 11 gatto! nível 1 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Tortori. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tortori. 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 un pochettino di guai un pochettino di guai madonna un pochettino di guai un pochettino ausetta com'è ragazzi base nato abbandonata un pochettino di guai speriamo che non ci sia nessuno raga sono agitato angelo si è protetto attenzione all'elettricità attenzione in quale in quale c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti.